ci siamo, forse ho stabilito il contatto, ostruzione localizzata mi piacerebbe riuscire a far tornare l'acqua in tutto il palazzo? dimmi che sei sardo senza dirmi che sei sardo oh che animale è questo? un cavallo FICA DI DI oh 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 Daniele, can you repeat? Non ho capito Questo è perché non stavi ascoltando Se ti ribecco di nuovo che non stavi ascoltando ti metto un non sufficiente Va bene Ve lo faccio risentire un'altra volta Listen One 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 sono a casa stai studiando? no vabbè raga raga si vede a noi è piccicata in testa questo raga si sta avvicinando aiuto cioè ma poi si vede tanto enorme grazie